Un'altra volta, attenzione, attenzione strumentale, dura pochi secondi. Un'altra volta, un po' più forte. Un'altra volta, attenzione strumenti a piastra e ripartire più piano la percussione. Un'altra volta, attenzione strumenti a piastra e ripartire più piano la percussione. Un'altra volta, attenzione strumenti a piastra e ripartire più piano la percussione. Un'altra volta, attenzione strumenti a piastra e ripartire più piano la percussione. Un'altra volta, attenzione strumenti a piastra e ripartire più piano la percussione. Un'altra volta, attenzione strumenti a piastra e ripartire più piano la percussione. Un'altra volta, attenzione strumenti a piastra e ripartire più piano la percussione. Un'altra volta, attenzione strumenti a piastra e ripartire più piano la percussione. Un'altra volta, attenzione strumenti a piastra e ripartire più piano la percussione. Un'altra volta, attenzione strumenti a piastra e ripartire più piano la percussione. Un'altra volta, attenzione strumenti a piastra e ripartire più piano la percussione. Dio sì, dio sì, ciao amico, dove vai, dove vai, la doi mensa, a mangiare, a mangiare, la mangiare, a mangiare, a mangiare, a mangiare, a mangiare. Con amore, con amore, fai un riso, in allegria, in allegria, io studio tutto lì, tutto lì, con le maestre, proprio qui, proprio qui, e alle vacanze, dico sì, dico sì, ciao amico, dove vai, dove vai, la doi mensa, a mangiare, a mangiare, la pasta, a ragù, a ragù, e la mando, un tachù, un tachù.